E giustamente carissima spesa il titolo della nostra puntata di oggi, avete sentito insomma un po' le risposte che ha ricevuto nelle sue interviste Barbara Cataldi, montate le interviste da Anna Rolena Brindisi per la copertina di oggi, c'è addirittura chi dice gli aumenti sono paraganabili a quelli nel momento in cui si passò, che ci furono nel momento in cui si passò dalla lira all'euro, addirittura siamo a questo punto professor Di Taranto, Giuseppe Di Taranto, economista Luis, il nostro ospite, buongiorno. Però sicuramente il potere d'acquisto delle famiglie sta diminuendo molto, anche perché è in rapporto a due elementi, l'inflazione che sta salendo e ahimè la tassazione che in Italia è troppo elevata, quindi sostanzialmente si perde il potere d'acquisto dall'alto per la pressione fiscale e dal basso per l'inflazione. All'intanto presento subito la nostra altra ospite che è in collegamento, come giudica questo blocco di provvedimento professor Di Taranto, rivediamo anche i cartelli mentre ne parliamo. Lo giudico positivo e spiego perché. Allora, da che vogliamo partire? Da rendito, sì, subito. Il argomento più importante. Guardi, io personalmente non sono mai stato contrario al reddito di cittadinanza e le spiego perché. Perché in realtà esiste ormai in tutta Europa, le uniche nazioni dove non c'era erano Italia e Grecia. Qual è il vero problema? È che è stato applicato male, è stato applicato molto male perché poi abbiamo visto i risultati quali sono stati. Adesso speriamo che con questi cambiamenti e soprattutto con più controlli perché è quello l'elemento fondamentale. Di quello mi sembra che si sia parlato molto poco anche in conferenza. Sì, ha ragione. Perciò dicevo, sono importantissimi i controlli perché se lei per esempio vede quanti soggetti hanno il reddito di cittadinanza al nord e quanti al sud, comprende subito che i controlli sono fondamentali. Quindi è un primo punto. Poi vorrei ricollegare sempre al reddito di cittadinanza un altro punto che è previsto in questa legge di bilancio perché appunto ci sono degli sgravi fiscali per chi assume i giovani sotto i 36 anni che sostanzialmente devono già aver avuto un contratto a tempo determinato. Questo mi sembra importante perché molti giovani sono sfruttati con i contratti a tempo determinato, poi appena hanno la possibilità di passare a quelli indeterminati sono licenziati. Qui c'entra anche il reddito di cittadinanza perché per questi sgravi sono previsti anche coloro che sono assunti a tempo determinato dal reddito di cittadinanza. Allora, io interrompo un attimo il commento e le chiedo, si è parlato di evasione fiscale in questa conferenza di presentazione perché a me sembrava di no, però magari mi è sfuggito. Anche a me sembra di no per la verità ed è un problema importante l'evasione fiscale perché noi stiamo parlando di oltre 100 miliardi e se aumentiamo anche all'illusione arriviamo a 200 miliardi. Anche qui sarà un problema di controlli che necessariamente vanno fatti in questo paese. Come sul reddito, anche su questo? Sì, questo è un paese di giuristi. Io dico sempre che le leggi sono fatte bene, poi il problema è l'applicazione di queste leggi. Sono anche tante, no? Le leggi. Tantissime, tra troppe. Andiamo nel concreto, rottamazione cartelle e pensioni. Prima le cartelle. Allora, guardi, cartelle, sì, sicuramente è un aiuto alle famiglie perché dobbiamo considerare che abbiamo parlato prima di potere d'acquisto, ma tenga presente che gli ultimi dati Ocse ci dicono che negli ultimi tre anni, di 30 anni, anzi altro che tre anni, negli ultimi 30 anni sostanzialmente il potere d'acquisto non è aumentato, sa perché? Perché le remunerazioni sono rimaste uguali e questo è gravissimo, questo è gravissimo. Parliamo di 30 anni, non di tre anni, quindi bisognava necessariamente far qualcosa. Se parliamo invece degli altri provvedimenti, ecco, sentivo uno molto importante sulle famiglie. Guardi, questo era già iniziato con il governo Draghi e con il cosiddetto Family Act. Secondo me tutto ciò che si fa per le famiglie è comunque fondamentale. Sa perché? Perché il nostro problema, prima che economico, è demografico. Noi abbiamo uno dei tassi di fecondità più bassi del mondo, che significa in termini reali, significa che noi abbiamo sempre meno nati, quindi sempre meno giovani e sempre più persone anziane per l'aumento della vita. Alla fine il sistema diventa insostenibile. Ma il fatto di sostenere con un 10% in più di retribuzione chi sceglie di non approfittare di questa finestra e di rimanere al lavoro perché ancora se la sente, che segno è? È un segno positivo, ma le spiego perché, al di là del provvedimento in sé, è un segno positivo in che senso? È un segno positivo perché sostanzialmente noi, se non facevamo qualcosa per le pensioni, ritornavamo alla legge Fornero, che non è che sia fatta male, però ha dei buchi. E quindi tornare alla legge Fornero significa andare in pensione a 67 anni. Se vogliamo dare maggiore occupabilità ai giovani, qualcosa bisogna fare. Cucco, mi confa un commento su opzione donna?